Abbiamo notizie di un audace attacco contro il principale deposito dell'EPC a Montrose. La Resistenza ha subito gravi perdite, ma la missione è stata un successo. Non dimenticheremo il sacrificio di questi uomini e donne, ma anche il nemico ricorderà questo giurale. L'EPC ha rafforzato la sorveglianza nella zona occupata, pressando i civili perché identifichino i membri della Resistenza. Un numero allarmante di abitanti è già scomparso e si segnalano torture ed esecuzioni. C'è chi ha dubbi sulla ribellione. Si temono rappresaglie, il pugno coreano che bussa di notte. La libertà ci è sempre costata cara. Dobbiamo restare uniti ora più che mai. Questa è la voce della libertà. Ce l'abbiamo fatta, vedo l'ora di dirlo a voi. Io voglio solo farmi una voce. Merda! È flaccata! Muoversi! Oh mio Dio! Cazzo! Aiuto! Oddio! Oh... Hanno ucciso tutti! No! Tutti figli di puttana! Eccoti il distintivo, vecchio Dio. Non riesco a perdermi oggi. L'hai sentito? Dobbiamo lasciare Montrose. Non vorrete davvero lasciarlo così. Dobbiamo andare adesso. Riendo. Riendo. Dobbiamo andare. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buon lavoro! Voi due! Lascia perdere! No! Rihanna, aiutami! Dobbiamo avanzare! Lo posso sistemare! Non c'è tempo da perdere! Reggi qui. Direi che ci siamo. L'oligata si muove, ma ma la pena. Bene, ci servirà. Andiamo. Ok. Spero che tu abbia un buon piano per portarci via di qui. Nessuno non è riuscito a superare il muro. Troveremo il nuovo. Io non cerco di dire. Connor, a quando l'arremo? Ci siamo quasi. In realtà, in realtà, in realtà, anche in realtà, non è verissimo. Siamo con te, su tutta la linea. Oddio. Detta dall'incursione di ieri. Allora, è colpa nostra. Zitto, Oper. Andiamo a muoverci. Non è sento. Non è sento. Non è sento. Un ci ha lasciato. Modo migliore per omigrare. Manteniamo il sangue a vetro. Potremo sfondare il piano. Per il giugno. Cerco Bruce. È sul retro. Qual è la situazione? Siamo bloccati al muro. Subbiamo enormi perdite. Che ne è del rinforzo? Non ci conterei. L'EPC assalta gli insediamenti civili e uccide chiunque ha visto. I pochi che sono arrivati qui hanno preso tutto il C4 che avevamo. Posizione. Ci sono squadre RPG e mille soldate dell'EPC che le supportano. Ok. Saremo il Goliath come inizia. Cosa? Oper, tu e Rihanna applicate tutto il C4 possibile sul telaio. Jacobs, tu stai con me. Apriremo un sentiero al Goliath così arriveranno. C'è una serie di blocchi stradali tra noi e il muro. Dobbiamo abbatterli per far arrivare la nostra bomba fin... Sottacchito! Sottacchito! Bomba in buca! Sottacchito! 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 Datevi fuoco di soffressione! Sottacchito! 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 Vai da fuori, abatti quel blocco stradale. A secco, ricarico. Al centro della strada, abbatti le barriere. Fuori uno, uno rimasto, avanti. Dobbiamo ottenere l'incrocio. Trovo una posizione rialzata e coprimi. Mi fanno scegliere! Granata partita! Fuori si farò! Dai da! Mi sbaglio! Mi fanno scegliere! Mi fanno scegliere! No! Mi fanno scegliere! No! Granata partita! Tutti su! Sì, le barriere! Sì, le barriere! Sì, le barriere! Mi fanno scegliere! Sì, le barriere! No! Sì, le barriere! Sì! Mi fanno scegliere! Si sono barricati, dobbiamo aggirarli! Forza, attraverso il negozio! Presa! In un'amidà! Ho visto un fucile dietro ai bambini, prendilo! Jacobs, alla porta, ti copro io le spalle! Guarda, attraverso il negozio! Mi tratterò qui, vai là fuori e abbatti l'ultimo blocco sulla strada! Guardio caricatore! Si, li stiamo respingendo! Ancora uno a destra! Si sono barricati, dobbiamo aggirarli! Siamo arrivata! Ecoliet è pronto! Negativo, secondo blocco stradale ancora attivo! Fatto! Brianna, il percorsore è libero! Come va con l'esca? Ecoliet è piano di C4! Ci stiamo raggiungendo! Su, dobbiamo trovare una posizione elevata! Una volta sfondato il muro, l'Api ci portereà via di qui! Ho, per me, di cosa riesci a fare? Andiamo al piano di sopra! Incoliet è quasi arrivato! Abbiamo una sola possibilità! Al segnale! Ora! Aprile il fuoco! Funziona! Il muro è sfondato! Granata! Granata! Figliamocela! Ha fatto il suo livello! Ora andiamocene da qui! Tutti nell'ambi! Jacobs! A te il cannoncino! Sì, il motore funziona! Ci vediamo al garage! Su, in macchina! Va bene! Va bene! Overport, ci viene qui! Ce ne sono altri sull'altro lato! Continuiamo dritti! Jacobs! Salve di un passaggio! Cazzo, ce l'abbiamo fatta! Dove stiamo andando? No, verso la cinquantesima verso l'ulta! Raggiungiamo la fattoria dei survivalisti e prendiamo l'elicottero! Solo così è aperto!